Buonasera, ben trovati dal telegiornale di Super Jail. Andiamo subito con la cronaca dove la crisi economica torna ad uccidere. Un piccolo imprenditore di 44 anni residente a Pescara, ma originario del Venezuela, si è infatti ucciso questo pomeriggio in via Pantini. A spingerlo a suicidio probabilmente problemi familiari e di lavoro in quanto aveva contratto debiti, ma si tratterebbe di piccole cifre, dell'ordine di qualche migliaio di euro. L'uomo è stato trovato all'interno di un capanno, ormai privo di vita. Per uccidersi l'uomo ha inalato del gas. L'imprenditore non si trovava più da questa mattina. Nel caso si stanno occupando i carabinieri, sul posto anche vigili del fuoco. Ancora cronaca, una rapina con spaccata questa mattina alla filiare di Coleranesco nel comune di Giulianova ai danni della Banca Popolare dell'Adriatico. Intorno a mezzogiorno tre banditi hanno fatto irruzione dopo aver sfondato la vetrina d'ingresso con una Fiat Punto rubata a Chieti. Avevano il volto travisato. In un istante hanno arraffato il contante nei cassetti che ammonta però solo 70 euro. Poi i rapinatori sono fuggiti su un'altra Fiat Punto, già a disposizione rubata questa volta però al Roseto degli Abruzzi. Con questa sono poi fuggiti in direzione dell'autostrada 14 dove la vettura è stata abbandonata. A quel punto i malviventi sarebbero scappati su una terza vettura imboccando appunto il casello della 14. Le indagini sono condotte sia dai carabinieri che dalla squadra mobile di Teramo. Cambiamo argomento, parliamo del maltempo che sta spazzando la costa teramana e non solo, ed anche e soprattutto la costa marchigiana. Infatti a Portodascoli si segnalano disagio, allagamenti e strarichiusi in fase di chiusura via Toti, così come risulta fortemente critica. La situazione nel sottopasso di via Virgilio, via Monte Aquilino è invece interrotta al transito per consentire ad un mezzo della Picena Ambiente di rimuovere la terra che ha invaso la carreggiata. Ancora transitabili ma in condizioni critiche la rotonda di Portodascoli, via Lambroso a San Benedetto, via Monte Conero a Ragnola, via Pasubbio a Portodascoli. La Polizia Municipale lancia un appello visto il perdurare delle precipitazioni invitando i cittadini a spostarsi in auto solo in caso di reale necessità. I disagi, dicevamo, si parla e si segnalano anche nel terramano. I vigili del fuoco sono impegnati infatti da ore a fronteggiare le richieste di intervento per il nubifragio di forte intensità che dalla scorsa notte sta spazzando il terramano, specie la costa. I disagi maggiori si registrano sul litorale, specie fra Martinsicuro e Tortoreto, dove alcuni sottopassi sono allagati come pure alcuni seminterrati. Ecco nelle immagini la situazione che si era creata in precedenti alluvioni. La circolazione in alcuni punti risulta difficile. A Silvi, a causa della pioggia, due contatori elettrici di due villini sono esplosi causando un incendio che è stato spento dai pompieri. Le famiglie sono senza elettricità. Situazione invece tranquilla al momento nell'entroterra dove continua a piovere ma senza particolari disagi. E un altro allarme legato al maltempo che aveva fatto già tremare i volontari di Canalba riguarda proprio il canile comprensoriale di Alba Riatica che, come ricorderete, sorge proprio a ridosso del torrente vibrata. Infatti è allarme per la struttura che ospita centinaia di cani al territorio e a lanciare il segnale di forte preoccupazione il gruppo consigliare di Passione per Alba. La valutazione che appunto muove il gruppo politico è soprattutto legato al nubifraggio delle ultime ore che ha fatto ingrossare il letto del vibrata che già nel 2013, ricorderete, aveva eroso parte della struttura che ospita i cani. Problematica questa che investe soprattutto il lato ovest, dice il gruppo consigliare al Benze, in parte crollato e che potrebbe subire conseguenze ancora più evidenti ora che l'argine sul territorio di Corropoli è stato rinforzato dopo gli interventi per la sistemazione del ponte stradale di via Ascolana. Non si comprendono i motivi che spingono l'amministrazione al Benze a sottovalutare la problematica, recita una nota politica del gruppo Passione per Alba, mettendo a rischio la vita degli animali presenti. L'ultima alluvione ha ormai reso inutilizzabile una cabina di smistamento dell'energia elettrica di proprietà dell'Enel. Le vasche di cemento a servizio del vecchio mattatoio sono pericolosamente pendenti sull'argine del rimasto del torrente. e andiamo a bussi per lo scandalo che oramai campeggia sulle cronache anche nazionali. Sulla discarica dei veleni, l'ACA, l'azienda acquedottistica di Pescara, prova a difendersi e rassicura la popolazione sull'assoluta potabilità dell'acqua. I pozzi Sant'Angelo sono stati chiusi dal 2007. Il costante monitoraggio dell'ACA conferma l'assoluta potabilità dell'acqua. Il presidente dell'ACA, Vincenzo Di Baldassare, a sgomberare i dubbi sulla bontà dell'acqua e a tranquillizzare i consumatori. Oggi l'acqua si può bere. A ricordare la chiusura dei pozzi è anche Lorenzo Livello, il direttore tecnico dell'azienda che gestisce l'acqua perché, come spiega, una volta chiusi i pozzi Sant'Angelo furono attivati i nuovi che si trovano a monte della zona inquinata, i pozzi San Rocco che captano l'acqua della falda del Gran Sasso. Quindi la situazione è sicura. L'ACA, come spiegano, monitora costantemente l'acqua. I nostri controlli in tutti i comuni alcuni settimanali, altri mensili, aggiunge Livello, non solo sono approvati dall'ACA ma anche dalla ASL. Quindi, ripete, non c'è nessun pericolo. L'acqua si può bere. La relazione dell'Istituto Superiore della Sanità si riferisce ai campioni dal 2004 al 2007 prelevati in tanti luoghi, a Castiglione, a Tocco, a Bussi, a Chieti, a Pescara, come ad esempio nella Fontana, in Corso Umberto. Da quell'epoca, inoltre, i pozzi Sant'Angelo sono stati chiusi, anche se per molti la discarica attualmente resta un enigma. Continuano ancora a uscire sostanze inquinanti? È la falda ad essere inquinata? In questa direzione non si hanno ancora risposte certe, ma gli amministratori tranquillizzano che l'acqua, dunque, si può bere. È quello che fa anche il sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, che ieri, come racconta, ha ricevuto centinaia di telefonati da cittadini che, di nuovo, si sono visti ripiombare nell'incubo di sette anni fa, spiega Mascia, quando inaspettatamente venne ordinata la chiusura dei pozzi di Bussi, quelli che per 40 anni avevano rifornito di acqua potabile Pescara e la sua provincia, lasciando a secco migliaia di famiglie. E sulla questione spinosa, quanto preoccupante, c'è la presa di posizione trasversale da parte di diverse figure politiche e anche del mondo dell'associazionismo. Non sapere ci pare quanto meno incredibile, lo ha detto Augusto De Sanctis del Forum abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, a proposito delle affermazioni del Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, il quale ha sostenuto di non sapere nulla dei dati relativi all'inquinamento di Bussi e di non aver mai ricevuto segnalazioni dall'Istituto Superiore della Sanità, altrimenti avrebbe preso provvedimenti. Il sito, ha sottolineato De Sanctis, è stato perimetrato nel 2008 come sito di interesse nazionale per le bonifiche. Inoltre la Regione Abruzzo viene invitata costantemente alla conferenza di servizio che si tengono al Ministero dell'Ambiente. La stessa Regione nel 2012 ha fatto lo studio epidemiologico che poi noi abbiamo rivelato, sostiene De Sanctis. Anche il consigliere regionale del PDC, Antonio Saia, ha sostenuto che Chiodi sapeva della situazione, stante tra l'altro una sua interpellanza presentata sull'argomento già nel 2013. E sempre sulla discarica di Bussi arrivano le affermazioni, le dichiarazioni proprio del Presidente Chiodi. Nessun motivo di allarmismo perché la qualità dell'acqua che arriva nelle case degli abruzzesi residenti nel bacino Chieti-Pescara è ottima. Prova a tranquillizzare la popolazione il Presidente Gianni Chiodi dopo un colloquio con il commissario straordinario eterno Pescara, Ariano Goio. Il documento dell'Istituto Superiore della Sanità ricostruisce Chiodi fotografa la situazione al 2007, ma tutti sanno che dopo l'insediamento del 2006 del commissario straordinario eterno Pescara, lo stesso dispose alla chiusura dei quattro pozzi di Sant'Angelo, posti a valle della discarica degli stabilimenti di Bussi, perché le indagini dell'Arta avevano rilevato che quei pozzi erogavano acqua inquinata. Per non indurre la portata e la pressione dell'acqua, ricorda Chiodi, il commissario ne ha presubito altri quattro in località San Rocco e i valori dell'acqua tornarono alla normalità. Dal 2007 quindi la popolazione del Chietino e Pescarese beve acqua purissima, potendo contare, prosegue Chiodi, anche su una portata consistente che evita crisi ridriche, soprattutto durante la stagione estiva. Ora, conclude il Governatore d'Abruzzo, è in corso un processo in corte da Sisacchieti e l'Istituto Superiore della Sanità depositato nel processo il documento che, ripeto, dice Chiodi, fa riferimento alla situazione del 2007 per la richiesta di danno ambientale. Indagare i livelli di inquinamento del sito Montedison di Bussi sul Tirino, accertare responsabilità e predisporre gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate. Sono questi in sintesi i punti di cui dovrebbe occuparsi la Commissione parlamentare di inchiesta che Amato, Castricone, Dincecco e Ginobile parlamentari abruzzesi del Partito Democratico, hanno proposto che venga istituita. Stiamo parlando, affermano i deputati, di un anno ambientale di oltre 8 miliardi di euro e una spesa per la bonifica stimata in circa 600 milioni. Per non parlare dell'elevato rischio di incidenza di neoplasia e patologie per la popolazione del comprensorio. Una vicenda, peraltro, sulla quale è in corso un processo che vede imputati i vertici Montedison per reati come l'avvelenamento delle acque, disastro colposo e delitti colposi contro la salute pubblica. Il Governo deve subito ad operarsi per la bonifica del sito di Bussi, stanziando risorse areguate. Lo afferma il deputato di Sinistra Ecologia e Libertà Gianni Melilla all'indomani dei dati sullo studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità, secondo il quale almeno 700 mila persone sarebbero state contaminate dalle acque delle falde permeate dai veleni della mega discarica di Bussi sul Tirino, località dove ha operato per decenni la Montedison. Spero che questa volta il Governo Renzi, sostiene Melilla, si assuma la responsabilità di guidare il processo di bonifica ambientale di Bussi, la Regione Verde d'Europa che con quattro parchi nazionali ha la più alta percentuale di territorio protetto. Cambiamo argomento e parliamo di raccolta differenziata, in questo almeno l'Abruzzo consegue il primato. Infatti la Regione è la prima del mezzogiorno per la raccolta pro capite di carta e cartone, lo ha annunciato l'assessore all'energia Mauro di Dalmazio, in occasione della giornata inaugurale di Pala Comieco a Pescara. Il dato spiegato di Dalmazio è emerso dal rapporto Comieco relativo alla raccolta pro capite in Italia. In Abruzzo il dato annuale ammonta a 43,2 kg per abitante, il primo come detto nell'area del mezzogiorno, di poco superiore a quello della Sardegna. Secondo il rapporto Comieco il dato nazionale arriva a 49 kg per abitante, mentre la leadership è stata confermata dall'Emilia Romagna con 81,5 kg ad abitante. Dove a seguire c'è il Trentino Alto Adice con 80,2 kg e la Valle d'Aosta con 75,9 kg. La notizia del primato nelle regioni del mezzogiorno per la raccolta di carta e cartone arriva in coincidenza della giornata di apertura della Pala Comieco a Piazza della Rinascita a Pescara, dove questa mattina sono state premiate le 6 scuole che hanno partecipato al progetto Marchio di Qualità, lo vedete nelle immagini, dedicato alle migliori esperienze di sistemi di raccolta differenziata e riciclo, valutate nell'ambito dell'accordo di programma quadro siglato da Comieco e Regione Abruzzo, al fine di aumentare la quantità e qualità della raccolta differenziata di cartone e carta in tutto il territorio regionale. L'iniziativa partita oggi a Pescara, proseguito di Dalmazio, rientra in quella strategia che abbiamo pianificato a livello regionale di comunicazione sul territorio, per una maggiore sensibilizzazione alla raccolta differenziata. E di nuovo cambiamo argomento per parlare di un giro truffaldino ai danni di società finanziarie e di leasing, ordito da alcuni cittadini Rom. Infatti il magheggio è stato scoperto dalla Polizia Stradale che ha così denunciato 9 persone per l'acquisto di autovetture che poi in realtà nascondevano un trucco ben congegnato per evitare di pagare, rimborsare a saldo proprio le finanziarie. Seguiamo il servizio di Luca Zarroli. T500 usando falsa documentazione con il chiaro obiettivo di non pagare le rate del leasing. A tessere le fila di una serie di truffe ai danni di società di leasing finanziarie c'era un intero clan di etnia Rom, composto da 9 persone residenti tra l'Albadriatica, Martinsicuro e Silvi. Il maxiragiro è stato scoperto al culmine di una laboriosa indagine dagli agenti della Polizia Stradale di Teramo. L'operazione ha portato alla denuncia di 9 persone, tutti i rom stanziali che vivono sulla costa teramana e al recupero di 3 autovetture che erano state acquistate in maniera fittizia con il solito stradagemma. I nomadi infatti acquistavano delle autovetture, soprattutto delle Fiat 500, sia nuove che usate, da alcune concessionarie della provincia teramana. Per definire la pratica di acquisto i truffatori usavano della falsa documentazione come buste paga, modelli 730 e CUD. In questa maniera riuscivano ad ottenere dalle finanziarie o dalla società di leasing le somme necessarie per acquistare i veicoli, ma le rate da restituire ai finanziatori non venivano corrisposte come pattuito. Ma il raggiro non finiva qui. Per evitare il sequestro per truffa, i rom denunciati ripolivano i documenti attraverso delle intestazioni fittizi a persone compiacenti, che poi rivendevano a loro volta i veicoli a persone in buona fede. Lasciamo l'Abruzzo, ci trasferiamo nelle Marche ad Ascoli per la precisione. Due anni e quattro mesi per concussione all'ex direttore generale dell'Asur, Michele Carmosino, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Un anno e otto mesi ciascuno invece ai due medici del Mazzoni, Francesco Cipollini e Virgilio Petrucci. E' questa la condanna inflitta ieri sera dai giudici del Tribunale di Ascoli, che hanno stabilito inoltre una provisionale di 20.000 euro ciascuno alle parti civili. La vicenda è ruota sulla base di una denuncia inviata dal primario di cardiologia su presunte pressioni ricevute da Carmosino per la nomina di un dirigente sanitario. I garabinieri hanno arrestato a Trecastelli, in provincia di Ancona, una donna slovacca pregiudicata con l'accusa di violenza e resistenza pubblico ufficiale. Una pattuglia l'aveva infatti sorpresa a guidare in stato di ebbrezza. Lenka Collarova, questo è il suo nome, ha rifiutato di sottoporsi ai raccertamenti, ha aggredito e minacciato i carabinieri. Su disposizione il Pubblico Ministero è stata comunque accompagnata in ospedale e poi arrestata. Sul duplice omicidio nel quale l'imprenditore albanese Buran Kaplan uccise l'ex moglie e suo nuovo compagno nel parcheggio di un supermercato a Bazzano, in provincia dell'Aquila, è stata disposta la perizia psichiatrica. Lo ha deciso stamane la Corte d'Assise dell'Aquila al termine dell'udienza nella quale, tra gli altri, è stato sentito il consulente della difesa, il professor Vincenzo Mastronardi, psichiatra e psicopatologo forense. Secondo il perito, Kaplan al momento dell'omicidio non era capace di intendere e volere. Per avallare questa tesi, il perito ha illustrato le risultanze di diversi test ed esami ai quali si è sottoposto l'indagato, tra cui una risonanza magnetica nucleare dalla quale si evince la morte di alcune cellule celebrali, che, a dire dell'esperto, hanno influito sull'autodeterminazione nel compiere l'azione delittuosa. Risultanze che hanno indotto lo stesso organo collegiale a nominare due consulenti della Corte, il cui incarico verrà conferito il 22 aprile, data nella quale verranno ascoltati altri testimoni. Andiamo di nuovo ad Ancona, con assegni, prelevamenti e ricevute bancarie, due coniugi ottantenni di Ancona, Carlo Talevi e Rossana Carloni, avrebbero distratto circa 16 milioni di euro dalla società da loro amministrata, la Euromec, produttrice di prodotti in lamiera, azienda fallita, a inizio del 2009. Il Tribunale di Ancona li ha condannati a sei anni e mezzo di carcere a ciascuno e a rifondere 3 milioni alla curatela fallimentare. Per la difesa, invece, non vi sarebbero state distrazioni. Gli imputati sono recidivi. Andiamo a Porto Sant'Elpidio, un vero e proprio ride punitivo. Non c'è altro modo per descrivere l'aggressione subita intorno alla mezzanotte di martedì da un gruppo di prostitute lungo la statale adriatica a Porto Sant'Elpidio. 5 lucciole, tutte di origini romene, sono state colte di sorpresa da alcuni connazionali incappucciati. Il plizio degli aggressori è stato fulminio. In pochi istanti gli uomini, piombati sulla statale adriatica a volto coperto, hanno iniziato a colpire le donne con violenza. Un ride durato solo pochi minuti, ma che ha costretto. Le ragazze ad abbandonare la statale sedice a dirigersi in tutta fretta al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo. Le lucciole sono state sottoposte a cure mediche da parte del personale del pronto soccorso. L'aggressione di martedì, infatti, sembrerebbe frutto di uno sconto tra gruppi criminali per il controllo del territorio. Sul fatto indagano i carabinieri e tra l'altro va anche aggiunto che gli aguzzini, dopo aver picchiato le prostitute, hanno fatto perdere finora le loro tracce. Un tentato furto ed un furto con scasso. Sono i due episodi, forse, della stessa matrice, registrati intorno alla mezzanotte a Nereto e Tortoreto nel Terramano. Ad essere stati presi di mira sono i supermercati Eurospin di Via Totti e a Nereto e quello situato lungo la statale 16 a Tortoreto. Nel primo caso i ladri hanno cercato di forzare una porta laterale che accede al supermercato, ma la robustezza della porta non ha consentito, anzi ha scoraggiato i malviventi, dal proseguire nell'azione delittuosa. A Tortoreto invece sono riusciti a rientrare e si sono dovuti accontentare di una cassetta di frutta del valore di circa 40 euro. I ladri in questo caso sono riusciti a rompere la vetrata di una porta antipanico posta lateralmente alla struttura. È bastato poi a quel punto allungare la mano ed aprire la porta d'accesso. Una volta all'interno hanno rubato la cassetta di frutta. L'allarme antifurto è scattato dopo la mezzanotte. Sul posto si è diretta la pattuglia dei carabinieri. Sulla pedana per lo scarico merci sono state trovate alcune susine che sono la prova del furto particolare, va detto, compiuto proprio dai malviventi. E ancora di furto parliamo ad Albariati, che è un furto con scasso, anche in questo caso in un bar. I ladri con un sasso hanno sfondato la finestra che dà sul retro dell'esercizio pubblico. Speravano di trovare in cassa denaro contante, invece anche in questo caso si sono dovuti accontentare dei pochi spiccioli che il titolare dell'esercizio aveva lasciato nel registratore di cassa. Cambiamo argomento da aria edificatoria a semplice zona agricola. Il passo indietro viene concesso dal comune di San Benedetto del Tronto e potranno soffrirne anche i semplici cittadini con la possibilità di godere di un corposo abbassamento della pressione fiscale. Da spiegare l'iniziativa contenuta all'interno dei Poru è l'assessore all'urbanistica Paolo Canducci, che ascoltiamo in questo servizio di Massimo Falcioni e Arianna Cameli. Da terreno edificabile a terreno agricolo, la retrocessione è consentita dal comune di San Benedetto grazie ai Poru, un modo per i possessori di un'area di pagare meno imu e di poter cedere un terreno non sfruttato. Ascoltiamo l'assessore Paolo Canducci. Nell'ambito dell'avviso pubblico relativo ai Poru abbiamo deciso come amministrazione di inserire anche questa opportunità per i cittadini che negli anni non hanno potuto sfruttare la destinazione urbanistica della loro area, che oggi quindi rappresenta per loro esclusivamente un costo. Per far comprendere meglio, se uno ha un'area artigianale dove quindi poteva essere realizzato, può essere realizzato da piano regolatore un capannone, se sino ad oggi ciò non è avvenuto perché o non era necessario al proprietario o il mercato non ha richiesto questa necessità, oggi per il proprietario questo rappresenta un costo perché ovviamente le tasse su quella proprietà sono proporzionate anche alla sua capacità edificatoria. Nel momento in cui può il proprietario richiedere di retrocedere la sua destinazione da artigianale ad agricola avrà sicuramente un beneficio di natura fiscale, non avrà più la possibilità di edificarvi il capannone ma allo stesso tempo, visto che non ne aveva necessità, non ne aveva necessità di edificarlo prima, allo stesso tempo potrà risparmiare sulle imposte. La prima scadenza è il 7 aprile ma comunque i tempi per l'avviso del poro sono stati differenziati per dare la possibilità ai cittadini di informarsi, infatti abbiamo organizzato tre incontri, uno c'è già stato la settimana scorsa, un altro ci sarà il 14, un altro ci sarà il 27, incontri rivolti soprattutto ad addetti ai lavori che poi saranno i tecnici che verranno contattati dai singoli cittadini noi immaginiamo e quindi in base a questi incontri noi cerchiamo di illustrare le opportunità offerte dai poro. La prima scadenza è il 7 aprile dove il cittadino proprietario o il cittadino interessato ad acquisire una proprietà pubblica inserita nell'avviso come dismissibile o a valorizzare una proprietà pubblica inserita nell'avviso come proprietà da valorizzare potrà presentare una semplice manifestazione di interessi. Nei successivi 45 giorni chiaramente la sua proposta verrà vagliata dai nostri uffici e il suo tecnico con i tecnici del comune cercheranno di trasformare quella che è una semplice manifestazione di interesse in una proposta effettiva fino alla scadenza definitiva che è 180 giorni dall'avviso quindi sono un termine da 45, un secondo termine da 45 e poi altri 90 giorni. Parliamo ora di lavoro e di opportunità per le imprese. Torniamo in Abruzzo. Un piano da oltre 6 milioni e 800 mila euro a sostegno della ricerca e dell'innovazione delle imprese. A tanto ammontano le risorse della sovvenzione globale più ricerca e innovazione finanziata della regione Abruzzo. La sovvenzione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dall'assessore al lavoro e alla formazione regionale Paolo Gatti. Parliamo di fondi per attività di alta formazione e la creazione di imprese in settori fortemente innovativi e tecnologici ha spiegato l'assessore Gatti. L'obiettivo è di alimentare un circuito virtuoso tra imprese, università e mondo delle professioni per sostenere la crescita occupazionale e rendere più attraente e competitivo il tessuto economico abruzzese. E di economia e di opportunità di fondi si parla anche in città ad Ascoli Piceno. Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tagliani è stato infatti nella città delle Centotorri per un convegno sull'utilizzo dei fondi europei che saranno vitali per il rilancio dei territori in crisi. Cristiano Pietro Paolo e Vincenzo Ingiulla. Per troppi anni non abbiamo sbagliato guardando soltanto alla finanza pensando che tutto si risolvesse attraverso un incremento di questo settore. Era sbagliato, è sbagliato e bisogna cambiare. Siamo riusciti a cambiare perché oggi l'Europa mette al centro della propria politica economica la politica industriale, quindi sostegno all'industria e alle piccole e medie imprese. E lo abbiamo fatto anche con investimenti importanti, 150 miliardi nel bilancio comunitario per sostenere tutti coloro che producono. Quindi in comparti diversi utilizzando i fondi regionali, utilizzando i fondi destinati all'innovazione e alla ricerca e quelli per le piccole e medie imprese, internazionalizzazione, accesso al credito e anche settore del turismo. Invece voi avete promosso nell'austerità in Europa, quali sono stati i segnali che voi come leader dell'Europa avete fatto? Magari tagli nei vostri benefici, nei vostri stipendi, qual è stata la vostra risposta? C'è stata una riduzione degli stipendi di tutti i funzionari comunitari, quindi compresi i commissari, per quanto mi riguarda ho tagliato tutti i benefici durante i viaggi, tutti i viaggi di servizio vengono fatti utilizzando la tariffa più bassa per proprio dare un segnale di disponibilità, ma non è così che si risolvono i problemi, i problemi si risolvono cambiando la politica, ridurre la politica di austerità, concludere una stagione e aprire un'altra, quella del sostegno alle imprese che sono quelle che possono creare posti di lavoro. Quindi secondo lei appunto anche dei fondi europei che saranno destinati alle nazioni, alle zone territoriali, sono un volano importante quindi? Certo, un volano importante, non sono la soluzione di tutti i problemi, però anche l'Italia deve avere la capacità di utilizzarli meglio e utilizzarli tutti, a Ascoli è stato fatto bene, la provincia ha lavorato molto bene, però è un problema generale quello italiano di non saper riprendersi tutto ciò che si dà. E dai fondi europei alla cancellazione delle province dopo il voto di fiducia espresso dal Senato italiano. Su questa c'è la presa di posizione ovviamente contraria del lupi, l'Unione delle province italiane. Si è scelto di intervenire sull'1,27% della spesa pubblica delle province pur di non toccare il 60% a carico dell'amministrazione centrale. Lo afferma in una nota il Presidente dell'Unione Provincia Abruzzesi Enrico Di Giuseppe Antonio alla luce appunto dell'approvazione in Senato della riforma del Rio, svuota province. L'Italia, aggiunge di Giuseppe Antonio, ha letteralmente buttato al vento un'occasione unica per fare una vera e propria riforma del sistema degli organi periferici dello Stato con l'accorpamento delle province piccole e degli uffici dello Stato. Per dare invece concreta attuazione al tanto sbandierato taglio dei costi della politica che avrebbe fatto risparmiare agli italiani ben 5 miliardi di fronte a dei tagli che si fermeranno solo a 32 milioni di euro. Dobbiamo prendere atto che non vi sono stati nella forza politica e tantomeno il coraggio per intraprendere una strada più difficile ma più efficace. ci si è accontentati di una riforma banale e superficiale. La serie di appuntamenti soprattutto in questo caso per Casa Pound sabato prossimo. Il movimento celebra i tre anni di apertura della propria sede a Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo. Sabato sarà infatti una giornata all'insegna dell'attivismo sociale e della cultura. dalle 17 alle 19 Casa Pound sarà in piazza Umberto I per illustrare le attività del movimento a livello locale e nazionale. Alle 20 e 30 presso la sede di Corso Adriatico si terrà la conferenza Quale Europa? Un confronto sull'attuale situazione politica europea e sui possibili scenari futuri. Ospite Gabriele Adinolfi, fondatore del centro studi Polaris. E restiamo a Sant'Egidio alla Vibrata dove si infiamma la campagna elettorale ma soprattutto la divergenza che nasce proprio all'interno del centro-destra. La candidatura di Elicio Romandini? Io non ho paura, dice il sindaco uscente Rando Angelini, anche perché la sua scelta ha chiarito tanti dubbi visto che la sua lista è una lista trasversale. Angelini che è sindaco santeggiriese per l'appunto non si ferma ma raddoppia. Ho il dovere, dice, di ricandidarmi per portare a termine tutti i progetti avviati. Sindaco Angelini, Sant'Egidio è uno dei comuni chiamati al voto. C'è una situazione molto particolare con il rischio di tre liste nell'area del centro-destra e una del centro-sinistra. E questa è la ricostruzione giusta? No, la ricostruzione esatta è che c'è una lista di centro-destra, una lista di centro-sinistra, una lista che si definisce trasversale, che guarda a centro, a destra e a sinistra. Questa è la lista di Romandini? Almeno ho letto, nel senso non ho parlato con lui su questa dichiarazione, ho letto soltanto i comunicati stampa dove parla proprio di lista trasversale che guarda a sinistra e quindi di conseguenza almeno non punta ad essere il candidato sindaco del centro-destra. In qualche modo toglie l'imbarazzo a tutti, perché queste non ci saranno tre liste, ognuno correrà praticamente tenendo conto del suo potenziale elettorato. Angelini che guarda al secondo mandato, però guarda anche al fatto che queste possono rappresentare potenzialmente delle insidie per la sua riconferma. Io non guardo al mio secondo mandato, ho il dovere di ricandidarmi come sindaco uscente perché abbiamo portato avanti una serie di progetti, abbiamo governato in un momento difficile per l'Italia, per la nostra provincia e per il nostro comune. Tanti cittadini mi hanno chiesto a gran voce di ricandidarmi, mi sembra normale che un'azione amministrativa per essere esplicata per bene ha bisogno di 10 anni e poi bisogna mettersi da parte. La politica non è una professione, la politica è solo un mandato, il mandato di un sindaco deve essere necessariamente di 10 anni. Comunque con i progetti che stanno partendo adesso, che sono oltre 4 milioni di euro di investimento sul territorio a costo zero per i cittadini, che i lavori continueranno per due anni, ecco perché ci vogliono esattamente 10 anni. Un progetto preparato in 4 anni. Angelini quando ufficializzerà la sua candidatura e quando partirà con la campagna elettorale visto che gli altri già scalpitano? Io sono sempre in campagna elettorale, sono sempre in mezzo alla gente, parlo con tutti, sono stato un sindaco e lo possono dire i cittadini che non ha mai guardato a chi l'ha votato, sono stato il sindaco di tutti, l'ho detto dopo aver vinto le elezioni e oggi posso confermarlo. Continuerò a fare questa azione amministrativa, non c'è stata mai una percussione, ho portato avanti tante cose, molti errori ne ho fatti perché indubbiamente se ne fanno tantissimi errori, si può sempre migliorare per il bene della comunità, io in campagna elettorale ci sono sempre, si possono fare anche qualche riunione ma le mie riunioni sono con quelle persone che ti danno la mano a fare il porta a porta, non siamo praticamente in una grande città che hai bisogno di una comunicazione forte, hai bisogno invece di dire ai cittadini quello che ho fatto. Questo mi è un po' mancato, inizierò la mia campagna elettorale raccontando ai miei amici, ai miei elettori e cercando poi di portare i miei amici a capire quello che ho fatto, a raccontarlo agli altri amici, quello che abbiamo fatto nei cinque anni e quello che faremo nei prossimi cinque anni. Torna anche in diverse piazze abruzzesi la campagna di sensibilizzazione dell'Associazione Donatori Midollo Osseo per il reclutamento di nuovi potenziali donatori. Una colomba per la vita, questo è il nome della campagna istituzionale il cui obiettivo è rinformare ogni singola persona sulla possibilità di ridare non la speranza ma una nuova possibilità di vita a chi sta lottando per avere la meglio su un tumore del sangue come la leucemia, il linfoma e il mieloma. Oggi il registro italiano dei donatori di Midollo Osseo è una delle 63 bancherati che operano in 43 paesi del mondo allo scopo di reperire un donatore compatibile per pazienti che ne hanno necessità. Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione con una lettera inviata anche alla diocesi di Teramo e a tutte le diocesi del mondo e nell'intento di valutare al massimo il tempo della quaresima ha invitato le comunità ad aderire alla proposta dal titolo 24 ore per il Signore. L'iniziativa prevede che a partire dalle 17 di domani per 24 ore almeno una chiesa in ogni diocesi possa rimanere aperta per consentire a quanti loro esiderano di accostarsi al sacramento della penitenza ospicalmente in un contesto di adorazione eucaristica. Per quel che riguarda la diocesi di Teramo Atri, visto che a Roma l'iniziativa sarà presieduta da Papa Francesco con una celebrazione solenne della Basilica di San Pietro. Dunque invece in provincia di Teramo l'iniziativa si terrà nella chiesa cattedrale del capoluogo con apertura del Vescovo Seccia, ad Atri nella chiesa cattedrale, a Giulianova nel santuario della Santissima Maria dello Splendore, a Roseto degli Abruzzi nella chiesa dell'Assunta, a Tortoreto Lido nella chiesa dell'Assunta, a Nereto nella chiesa del Suffraggio e a Montore Alvomano della chiesa di San Rocco. Turismo e ci spostiamo ad Ancona. Dati negativi per l'aeroporto anconetano, soprattutto per quel che riguarda il traffico passeggeri internazionali, prova che le missioni in oriente del Presidente Spacca servono a poco, è l'opinione del PDL sanbenedettese. Il servizio di Falcioni Cameli. Una missione che non serve a niente, lo dice il PDL di San Benedetto in merito alla trasferta della Regione Marche del Sindaco di San Benedetto in Oriente, precisamente in Giappone e in Corea del Sud. Una trasferta bocciata dai dati dell'asse aeroporti che denota una flessione a carico dell'aeroporto di Ancona. Raffaello Sanzio. Mi sono preso la briga di andare a vedere in ambito regionale quelli che sono i dati legati al nostro aeroporto, quindi al Raffaello Sanzio, che è gestito dall'Aerdorica, che per l'80% è controllata dalla Regione Marche. Ebbene, i nostri cittadini devono sapere, i marchigiani, che su 39 aeroporti che ci sono in Italia quello di Ancona è posizionato al 28esimo posto. Nel 2013 ha avuto una flessione, parlo di passeggeri, del 10,8% e se andiamo a prendere il dato di gennaio 2014, addirittura vediamo che c'è una flessione del 31%. Andando poi a suddividere questo dato, si può constatare come nel 2013 ci sia stato un meno 15,2% di passeggeri internazionali. E allora io mi sono detto, analizzando questi dati, quali sono gli effetti benefici che producono questi viaggi oltreoceano? Ebbene, io da quello che ho potuto constatare non ce ne sono, perché non possiamo considerare che i turisti da queste realtà possano arrivare con l'auto, devono necessariamente prendere l'aereo e servirsi di esso per raggiungere la nostra nazione e quindi la nostra regione. Se c'è stato un calo del 15,2% vedete che poi tutti questi benefici che si vantano non ci sono, quindi il freddo numero dei dati smentisce appieno quelle che sono poi ogni volta le dichiarazioni sempre intonate in maniera positiva riguardo questi viaggi. Io vedo invece soltanto una voglia di far parlare di sé molto spesso fine a se stessa e che non porta sicuramente, non dà quelli che sono i frutti dovuti. Maria, icona di un popolo devoto, è il titolo della pubblicazione di Franco di Filippo che sarà presentata sabato prossimo alle 16 alla Baria di Corropoli. L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia di Sant'Agnese rientra nell'ambito delle manifestazioni centenari del primo movimento degli occhi della Madonna del Sabato Santo, che è la Madonna molto cara al popolo corropolese. Di nuovo la politica, ci spostiamo a Tortoreto, sono ore decisive nella coalizione di centro-sinistra per individuare il candidato sindaco Nico Carusi, consigliere comunale di opposizione uscente e papabile alla poltrona di primo cittadino, qualora così dovesse decidere il partito e qualora così poi dovesse decidere l'elettorato, parla di normale dialettica, di unità insieme al gruppo e delle necessità di individuare una figura al di fuori dei partiti. Ascoltiamo. Carusi, nel centro-sinistra sonore decisive, bisogna superare questa tra virgolette contrapposizione dal suo nome, quello di Lombi, per essere candidato sindaco di quest'area politica. Come se ne esce? Come se ne esce? Io innanzitutto ribadisco, sta per uscire il mio comunicato stampa, dove sottolineo assolutamente che i rapporti tra me, il centro-sinistra, il PD e Flaminio Lombi sono integri e sani. Ci sono state delle diversità di pensiero, che la mia ovviamente è quella per il rinnovamento e quella di Flaminio, comunque coloro che appoggiano Flaminio è sull'esperienza. Che ci può stare? È legittima. Queste ore saranno decisive perché credo che al massimo entro i primi giorni della settimana prossima potrebbe uscire la linea da poi portare in avanti per avere il consenso elettorale. Io ho la mia ambizione, che penso fosse legittima a candidarsi, ma nel momento in cui ci sono state queste divergenze, io ho fatto un passo indietro. Volevo le primarie, ma per il semplice fatto di coinvolgere, proprio per un principio a me tanto caro che è quello della condivisione, di coinvolgere il cittadino e che col voto avrebbe convalidato, comunque legittimato, una scelta dall'uno o dall'altra parte. Questo non è stato possibile, per i tempi e per tutta una serie di motivi, quindi io faccio un passo indietro, ma credo che un personaggio o un uomo che possa ricompattare tutto il centro-sinistra, tutta la coalizione centro-sinistra, debba ormai venire fuori dagli schemi, da un personaggio che sia fuori dagli schemi di partito. Questo potrebbe, dal vostro punto di vista, riunire tutte queste anime che gravitano al centro-sinistra? Sì, credo proprio di sì, perché se ne sta parlando in questi giorni, in maniera concreta, anche con dibattiti ovviamente accesi, aspri alle volte, dai toni aspri, però lì dove c'è un sano dibattito, uno scontro che può essere generazionale, ma sano, integro, chiaro e onesto, alla fine si trova una quadra e una soluzione che secondo noi sarà alla fine quella giusta e la migliore soluzione da portare in avanti. Visite guidate ai laboratori didattici per bambini, moste di pittura, sono queste alcune delle iniziative organizzate a Civitella del Tronto nella suggestiva Fortezza Borbonica. Sarà un'estate ricca di eventi quella che si potrà vivere qui in Fortezza, a Civitella del Tronto? Allora sì, in programma abbiamo tutte le domeniche giochi di Fortezza, degli appuntamenti dove i bambini con le proprie famiglie potranno scoprire alcuni angoli della Fortezza con dei laboratori didattici e dei giochi. Continuiamo il programma con le visite wild, con il falconiere Giovanni Granati che farà delle esibizioni con falchi, lupi e gufi e naturalmente abbiamo in programma oltre ai laboratori d'arte contemporanea sempre per i bambini, anche delle visite guidate che finiscono con delle degustazioni di piatti tipici terramani. Per quanto riguarda le visite wild bisogna prenotarsi? Allora la prenotazione è obbligatoria, va fatta telefonicamente oppure consultando il sito della Fortezza www.fortezzadicivitella.it dove si trovano tutte le informazioni in merito. Mentre per quanto riguarda i laboratori didattici, nello specifico di cosa si tratta? Allora oltre a giochi di Fortezza, le attività che facciamo la domenica con i bambini e le famiglie incentrate proprio sul tema del Forte, abbiamo in programma per l'estate di tenere le nostre aule didattiche aperte in alcune fasce orarie pomeridiane in cui accogliere tutti i piccoli visitatori della Fortezza e farli divertire facendogli scoprire appunto l'arte contemporanea in modo didattico, in modo giocoso. Riprende forma il progetto Beach Arena e anche quest'anno la gestione dello stadio sulla sabbia di San Benedetto del Tronto e di tutte le attività collaterali è stata affidata la Sun Beach Soccer. È una riconferma che ci riempie di orgoglio, ha detto il Presidente Roberto Ciferni. Ci siamo subito messi al lavoro per pianificare gli appuntamenti estivi. Abbiamo bisogno di urgenti, conferme da parte dell'amministrazione comunale. In effetti la società Rosso Blu, detentrice della Coppa Italia, dovrebbe ospitare l'edizione di quest'anno del trofeo in una data che ancora uscilla tra il penultimo e l'ultimo fine settimana di maggio. Ma senza un atto ufficiale del Comune non si può confermare la tappa alla Lega Nazionale Direttanti, fa sapere Ciferni, che invece sta premendo per poter così presentare l'intera stagione 2014 del Beach Soccer nazionale. Chiudiamo con la notizia del CSI, il ciclo di incontri sulla cultura e sull'etica sportiva programmato dal Centro Sportivo Italiano. Per i 70 anni dalla fondazione si arricchisce di nuovo appuntamento, sempre in un istituto scolastico terramano. Dopo quello con Elisabetta Preziosa il 22 marzo al Delphico sarà il liceo scientifico Albert Einstein, infatti, a ospitare sabato prossimo alle 11.30 il dialogo dal titolo. Protagonisti del cambiamento che il pluricampione di ginasica artistica Igor Cassini, il presidente del CSI Angelo Remarcellis, intraprenderanno di fronte alla platea degli studenti. Bene, questa era l'ultima notizia del telegiornale di Super G. L'informazione torna invece domani alle 14.00. Grazie per essere stati con noi e a tutti un buon proseguimento di serata.